Il Biceglie torna alla vittoria a tre mesi e mezzo dall'ultima volta, datata 31 ottobre. Il Nardò manca ancora all'appuntamento con il successo nel 2022. Di Coletti, Trinchera e San Domenico le firme sul 2-1 del Ventura, sorpasso dei Nerazzurri che in casa non trovavano i tre punti dal 24 ottobre. Le formazioni, Cazzarò dispone il suo Biceglie con il 3-5-2. A costa terminale offensivo supportato da San Domenico in fascia, Rubino e Cianciaruso, out, Cozza per squalifica. Nardò che replica con il 4-4-2, Mariano e Mancarella sostengono Puntoriere e Cristaldi. Avvio equilibrato, poi una doppia chance per il Nardò a scuotere il torpore. Al Farano impegna dalla media distanza Martorel che poi ci mette i guantoni sul tentativo di Cristaldi con il sinistro. Replica Bicegliese con Coletti, respinta così così sul piazzato dai 25 metri di Petrarca, poi Ligorio spreca il più facile dei tap-in, ma è graziato dall'assistente marchese che lo becca in fuorigioco. I calci piazzati restano un fattore. Mariano prova a sorprendere Martorelli, numero uno del Biceglie, risponde presente. Duello che si ripete al 29esimo, rigore in movimento per Mariano, piattone e gran risposta del portiere di casa. Slide indoor della partita al 36esimo, Masetti pasticci in aria e tocca con il braccio. L'arbitro Moretti non ha dubbi e indica il dischetto. Dagli 11 metri Coletti e Glaciale, pallone da una parte e Petrarca dall'altra. 1-0 Biceglie, quinta rete stagionale per Coletti, capo cannoniere di casa. Tre giri di lancette e il Nardò rischia il patatrack. Dorini di testa prende in controtempo il suo portiere Petrarca, che rimedia sulla linea in presa bassa. Il secondo tempo si chiude con gli ospiti che collezionano corner, senza però far male. Prologo a quello che accadrà all'alba della ripresa. Calcio di punizione prolungato da Cristaldi. Sul secondo palo Trinchera prende il tempo a difesa e Martorell e firma l'1-1 Nardò. Il gol porta l'inerzia della partita in direzione ospite. Mancarella dalla bandierina, punto riede, stacca nell'area piccola, Martorell reagisce distinto. Un minuto e Cristaldi si libera in area, destro sul primo palo ancora il portiere del Biceglie ci mette i guantoni. Nardò che continua a collezionare calci d'angolo, Cazzarò decide allora di cambiare. Dentro Coria per Ligorio, passaggio al 4-3-3. Mossa che garantisce vigore, cross da sinistra, stacco di Acosta, Petrarca blocca. Torna in partita San Domenico, slalom su Alfarano e Trinchera, sinistro radente che sfiora il palo. Ancora San Domenico dalla sua mattonella a metà frazione, prende la mira calce e supera Petrarca. Il suo destro si infrange sulla traversa, poi l'iso su invito di Acosta trova una deviazione avversaria. Con il passare dei minuti la fase difensiva del Nardò si fa sempre più incerta. In un pertugio al 32esimo si infila San Domenico che raccoglie una sponda di Acosta su dormita degli ospiti. Sinistro di prima intenzione, Petrarca battuto, 2-1 al Ventura. Sotto nel punteggio De Candia passa al 4-2-4 con Caputo e Cavaliere per De Feo Cristaldi. Finale di marca Nardò. Sul quindicesimo corner della partita per gli ospiti saranno 27 nel complesso, inclusi 10 del Biceglie. Il pallone arriva a Valzano, destro a giro, pallone largo di due metri. Nel finale il confuso assalto del Nardò non produce frutti. La squadra di De Candia, in attesa di recuperare le due partite che le mancano, resta in terz'ultima posizione a 22 punti. Quella di Cazzarò sale a 24 ai confini della salvezza diretta.